Stiamo passando abbastanza affaticati questo periodo, però cerchiamo di metterci il meglio. Penso che questa stagione poteva riservarmi belle cose, però per questo virus non si possono fare. Ora mi preparo per la prossima stagione al meglio. È un significato molto importante, è una grande squadra che ci può dare possibilità per il futuro. Bene, bene, è un gruppo che sta bene. Sei contento? Sì, sono contento. Mi piace questo sport, è pure uno sfogo certe volte su sport, quindi va bene. Per me vestire questa maglia vuol dire che un giorno avrò un futuro e di andare al meglio. Le mie caratteristiche principali sono la volata. Sei forte lì? Sì. Lo dovrai dimostrare? Certo. Quanti anni sono che stai con il Pirata? Sono quasi otto anni. Tantissimi? Sì. Fin da piccolino? Sì, quando avevo cinque anni già avevo la passione di andare in bici. Abbiamo sempre dato il massimo anche quando non potevamo uscire. Dove vuoi arrivare tu? Io, professionista, finché non posso correre, correrò e darò il massimo. Beh, almeno fino all'allievi. Poi? E poi vediamo. E poi vediamo.